Nel pomeriggio di ieri ad Agropoli, in via Matilde Serà, una cittadina ha dovuto raccogliere del velino per topi gettato a terra da ignoti, si pensa di proposito, per uccidere cani e gatti randagi. Non è la prima volta che accade una situazione del genere. Ultimamente, proprio in quella zona, diverse sono state le segnalazioni di residenti cittadini che hanno provveduto a rimuovere il velino di colore rosa intenso anche in traverse adiacenti alla strada principale. Proprio nel tardo pomeriggio di ieri, il gruppo Amici a quattro zampe Agropoli aveva provveduto a segnalare il pericolo sulla pagina Facebook, annunciando anche di sporgere denuncia contro ignoti e segnalando il tutto alla polizia municipale. Forse qualche indizio in più su chi è stato il responsabile di tale gesto potranno fornirlo ai vigili urbani le telecamere di privati cittadini. L'utilizzo del velino per topi è una pratica ancora molto diffusa, tuttavia l'utilizzo scorretto di queste sostanze può mettere in pericolo anche i nostri animali domestici. L'ingestione dei topicidi può rappresentare davvero una minaccia per cani e gatti, che tendono a essere sempre molto curiosi. Purtroppo questo tipo di avvelenamento è molto pericoloso perché può generare gravi conseguenze sulla salute e nei casi peggiori sulla vita dei nostri animali. Ma come capire se il proprio animale ha ingerito velino per topi? In concomitanza con l'utilizzo di velino per topi, se il vostro cane o gatto mostra strani sintomi, è bene non trascurarli, ma prestare la massima attenzione. I campanelli d'allarme sospetti sono letargia, inappetenza, sanguinamento delle gengive o del naso, vomito di sangue, urina con sangue, feci scure. In questi casi la corsa dal veterinario è vitale, lo specialista monitorerà l'animale ed effettuerà degli esami specifici per definire un quadro clinico e iniziare subito una terapia. Importante capire da quanti giorni il cane o gatto presenta la sintomatologia e dunque da quanto tempo è entrato in contatto con il topicida, solitamente i segni si manifestano anche a distanza di 1-7 giorni dall'ingestione del velino. I bocconi incriminati sono di colore rosa e sono purtroppo un'ottima esca per cani e gatti. Il consiglio a chiunque vedesse il velino gettato in strada è quello di segnalare il prima possibile agli agenti della polizia municipale o munirsi di guanti e pazienza e rimuoverlo immediatamente.